Inizia l'evento, inizia adesso l'evento cretino Vediamo, inizia adesso l'evento, l'evento è appena iniziato su a Borneight Ma io non lo vedo muoversi Ma non si sta muovendo Io non vedo niente No dai, quando è che inizia Dai, oh Ok, inizia adesso, inizia adesso Inizia adesso Guarda, vedrai che è tipo enorme Si, che è enorme già, lo vedo Ma ce l'ho detto inizio Però l'ho rotto tutto là No, fido Oh, fidati Fidati di non fare questa cagata di snitch Fra, ha rotto tutto là con il corno, dico No, fra quanto è grande Te l'ho detto che è enorme Porca troia Porca troia Figa, a me fa paura Porca troia Guarda la faccia Guarda gli occhi che sono diventati rossi Guarda la mano No, io non c'ho il lag No, io non c'ho il lag Torna su, cretino Torna su Dove stai andando, dati Tano No, fra Ma che cosa sta succedendo a Tano Ma che c'è da Eccola Galactus ha fame Ma scampiamo via Non lo so, io stavo là Io stavo A rovine A rovine No Spurca troia Non lo so La distrugge la mappa, secondo me Ma sembrerà Sembrerà No, sembrerà season 9 Quando viene risucchiato Ti ricordi? No, io sto aspettando Io voglio aspettare No, mi voglio No, mi voglio No, mi voglio No, mi voglio Dobbiamo Muoverci Ma guidiamo il bus Guarda No, voglio vedere una cosa Dai aspetto Voglio vedere la vecchia mappa No Che figato Siamo dentro il bus Ci sono un po' di bus Ci sono un po' di bus Ma il bus è un bus povere Sì, anch'io Lo guidiamo Lo guidiamo E come fare guidarlo? Mi sono preso Mi sono preso la libertà Di armeggiare un po' Con la tua realtà Una cosa da nulla Mi ringrazierai dopo Ho modificato l'affare Dei... No, chiudi Poi me ne vedo E' vero Levo Carino Speravo di poter provare I cannoni laser Del bus Della battaglia C'è un cannoni laser I bus Che figata E vogliono far distruggere la mappa Lo sai? Ragazzone Ma contro i droni Si No, figa di Buddha I droni I droni Ti ho capito Sono le sentine del cazzo Voi state sparando? Galactus Guarda Bra Vaffanculo Oh, sono belli forti Sono belli forti Eh, vaffanculo È impossibile Mirare Oh Boh Io sono ancora in battaglia Figa Quanti ne ho Quanti ne ho messi Bellissimo Inca Non posso più mirare C'è Thor Che cazzo sto facendo? Che figata Che figata Si, anch'io ci sono Che figata è la musica Che figata è la musica È la musica di Vissi, Vissi, Vissi Quanti è una musica di Vissi Quanto è figa Quanto è figo Quanto è figo Quanto è figa Grazie Minchia c'è Wolverine Perca traia Minchia quante rage Farci Ma perché tu non sei a me, non mi sposti? No, però è molto... ma il mio è danneggiato come bus, il tuo? Cazzo che suonero! Mi stai... no, mi stai risucchiando! Allora, guardiamocene! Se il piano funziona, non lo vedremo più. Se non funziona, almeno ci saremo. Divertitela! In ogni caso, bel lavoro! Allora, per il momento non mi sposti. No... eh sì, adesso sì, mi ha risucchiato. Ma non ha risucchiato il bus? No, non me, il bus ha risucchiato. Eh... Che figata! Ma poi è in prima persona? Sì! Ma se... non può morire Galactus. È soprannaturale come storia. Non può morire Galactus. No, perché nella storia lui è un dio dell'universo, nel senso che riequilibra i mondi. E riequilibrando i mondi non potrebbe morire, lo sai? Non potrebbe morire. Un attimo che sta suonando il telefono. È anche me. No, non c'è me il bus nero. Stessa... c'è la stessa cosa? Vedo lo schermo nero. Chi è questo che è morto? È Johnnese! Oh, io vedo lo schermo nero. Io ho visto Johnnese che si rialzava dal pavimento. Connessione in corso? No! 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 Non ci credo. Vedo anch'io schermo nero, comunque. Vedo anch'io schermo nero. Cazzo succede? Sono schermo nero? Dopo Johnnese che si è rialzato, vedo anch'io schermo nero. Eh, allora dice connessione in corso. Non s... Un attimo. Io non vedo più niente. È nero, è nero. È tutto nero Fortnite. Neanche il buco nero c'è. È tutto nero. Guarda in basso sinistra. Non c'è niente, perché? Allora c'è scritto connessione in corso. No! Continua! Continua puntini puntini. Nella stagione 5. Fortnite stagione 5 inizia tra 7 ore, 38 minuti e 51... Ah! Porca troia! Eh? Eh? Oh, ecco, continua. Nella stagione 5... Posso dire una cosa? Sì. Che no. Non è vero, a me è piaciuto un botto. Cioè... Facevo prima... A guardarmi il collegio. Ma no, non è vero. Non è vero. Eh no, a me è piaciuto come evento, eh. A me è piaciuto come evento. Ma inizia tra 7 ore? La stagione! E il prossimo evento non finisce. Continua nella stagione 5. Quindi anche la stagione 5 sarà... Eh! Si prolungherà l'evento nella stagione 5. Eh, che merda! Il 3... Fidati che secondo me viene una stagione 5 da paura. Meglio di questa. E appunto, da paura proprio la scritta. No, meglio di questa. Fidati. Sì. Tra due season ho fatto... Un... Un anno di... 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 Di stagioni. Dieci stagioni fatte. Eh? Ma tu dove sei adesso? E forno è stagione 5. Inizia tra 7 ore e 37 minuti e 10. Ma non ti dice tipo esci in basso sinistra? Si. E perché a me no? Perché a te... A te no? Non ti dice esci? No. Sì! Forno è stagione 5! Eh! Domani me la scioppo! Forca troia che è troppo bella, troppo bello l'evento. Uno spettacolo! A me è piaciuto. L'unica cosa, sì è vero, che poteva essere un po' meglio, un fatto meglio. Perché la storyline si discosta abbastanza dai fumetti. Se tu prendi i personaggi dei fumetti, devi fare una storyline riadattata ma similare. Non che stravaggi tutto un personaggio. Perché Galactus si può... Non può... No, perché... Galactus non può morire. E' un supereroe che ti veniva con un vicino. Così ci stava. Però è durato troppo poco secondo me. Quello... Anche per me è che sia durato poco. Però la cosa che mi dà fastidio è che... Galactus... Non può morire. Nel senso è impossibile che muoia. Le regole di Galactus sono diverse. Però vabbè. Perché se tu leggi i fumetti, ovviamente Galactus non può morire. Perché è un'entità che mette equilibrio nello spazio e nei mondi. Infatti... Lui mangia i mondi. Ma... Mangi... No, tu non hai capito. Prova a schiacciare, esci. Prova a schiacciare, esci. Vuoi uscire da Fortnite? Ecco. Rimorrà così per sempre. Come il buco nero. Sette giorni senza Fortnite. Sette giorni? Non sono sette ore, vero? No, sono sette ore, petino. Sono sette ore. Ah, sì, sono sette ore. Sono sette ore, figa. Minchia sette giorni. Oh, fanculo. Però che palle. Grazie.